Musica Ancora un cordiale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia, nuovo appuntamento, abbiamo superato le 40 puntate esclusivamente di questa campagna elettorale per le politiche e per le regionali di Talk Sicilia, Talk dedicato appunto alla presentazione dei candidati nelle varie elezioni nei vari collegi e in questo momento andiamo verso la chiusura della campagna elettorale, questo è il secondo giro, così lo abbiamo definito, fra i candidati presidenti della regione, il primo in apertura, questo in chiusura di campagna elettorale. Il nostro ospite oggi è Gaetano Armao, candidato presidente della regione del terzo polo, vice presidente uscente della regione e che intanto ringraziamo per essere qui con noi, per dedicarci. Ringrazio voi e ringrazio i telespettatori di darci il loro tempo a ascoltarmi. E quindi ci dedicherà anche oggi questi 24 tradizionali minuti che noi dedichiamo appunto ad ascoltare le idee e le proposte dei candidati per far sì che vi possiate fare una idea precisa che poi avrà un senso per rappresentare le vostre esigenze all'interno della cabina elettorale. Una cosa che dico sempre, ma poi è questa la nostra missione, è quella di offrire al nostro pubblico l'occasione di scegliere opportunamente. Secondo, si dice tradizionalmente scienza e coscienza, però insomma è quello. Discernere, discernere, saper distinguere e comprendere. E allora, siamo in chiusura di campagna elettorale, ormai sono veramente poche ore, puoi ritenerti soddisfatto della campagna elettorale ad oggi? Io credo che è una campagna elettorale molto breve, d'estate, in piena estate, è una campagna elettorale dove purtroppo ha dominato un tema drammatico, quello della crisi energetica, della crisi alle bollette e quindi si possono ritenere poco osservati altri temi cruciali per la Sicilia, per il Sud, che sono rimasti un po' in ombra sui progetti. Alcuni candidati almeno non hanno neanche presentato il programma. Ecco, c'è stato sotto il profilo dell'analisi dei temi cruciali per il futuro della nostra Sicilia un'attenzione molto marcata sulle emergenze e quindi è mancato il dibattito sui grandi temi, i regassificatori, i termovalorizzatori, i trasporti, l'infrastruttura, il digitale, quello che può rappresentare il futuro per la nostra Sicilia. Il tema delle bollette, noi sappiamo, vicino a questo posto c'è un artigiano che ha visto arrivare, l'ho incontrato entrando, che ha visto arrivare la bolletta da 1000 Euro a 8000 Euro. È chiaro che a quel punto saltano tutti i confini, saltano tutti i temi, tutti i programmi e ci si occupa di un'emergenza che sta bruciando il nostro tessuto imperditoriale, la microimpresa e a cui la politica deve dare una risposta. Avevo chiesto di interrompere per un giorno la campagna elettorale e concentrare l'Assemblea regionale sul recupero di tutte le risorse possibili per dare una prima risposta ai nostri artigiani prima che chiudessero o meglio che gli staccassero la luce, perché purtroppo alcuni chiuderanno non perché vogliono chiudere o protestare, ma perché proprio sarà cessato il rapporto con il fornitore dell'energia perché ha presentato bollette non pagabili, perché non sostenibili. Purtroppo però l'Assemblea non ci sentono, sono occupati a trovare voti e quindi non si è data risposta, mi avvisa un'emergenza effettiva. La prossima Assemblea e il prossimo governo potrà dare risposta non prima dei primi dicembre e quindi ho paura che nel frattempo ci sia un vuoto che colpisca soprattutto i più piccoli, perché vedi le grandi imprese, le medie imprese del centro nord hanno due opportunità, da un lato il credito d'imposta, varato dal cosiddetto decreto aiuti 2 e rafforzato dal decreto aiuti 3 e dall'altro la cassa integrazione, che sono due risposte non esaustive, ma sono due risposte alla crisi determinata dalla caro energia. Il piccolo imprenditore o il micro imprenditore, l'impresa artigiana no, il credito d'imposta non se ne va a nulla, perché il tempo che la utilizza già nel frattempo ha bruciato l'azienda, la cassa integrazione non la può utilizzare e quindi o c'è un intervento diretto di sostegno alle bollette oppure la soluzione è la chiusura, questa è una cosa inaccettabile perché un micro imprenditore che chiude licenzia 7-8 persone, perde il lavoro, lascia non osservato più un settore, non servito un settore, pensate al settore della panificazione, a quello delle macellerie, a quello dell'agroindustria e quindi è un tema cruciale, difatti riveste la posizione prima nella gran parte dei programmi, certamente nel nostro, è il punto numero 1. Oltretutto anche l'impeditore che ricorre alla cassa integrazione comunque crea un effetto sul lavoro che è devastante, a prescindere dal fatto che magari si mette in salvo per qualche mese. E poi comunque deve pagare, perché la cassa integrazione è a carico in parte del datore di lavoro, non è che il datore di lavoro mette in cassa integrazione una quota la deve comunque versare ed è complicato. C'è dunque il rischio, almeno questo è quello che si percepisce, che qualunque sia il risultato di queste elezioni, quello che si dovrà fare sarà comunque ricorrere, correre dietro alle emergenze prima di pensare veramente alle cose da fare? Purtroppo abbiamo incrociato tre crisi una dietro l'altra, prima la crisi finanziaria che ha avuto effetti nel centro-sud e soprattutto in Sicilia perché nel quinquennio di governo al centro-sinistra non si sono affrontati i problemi cruciali della regione e la Sicilia non ha recuperato quello che aveva perso con la crisi finanziaria del 2010-2011, i primi anni del secondo decennio degli anni 2000. Poi è arrivata la crisi Covid che ha avuto effetti devastanti durante il periodo del lockdown e poi successivi in termini finanziari. Quando ci stavamo riprendendo, non a caso nel primo semestre del 2012, la Sicilia, abbiamo lavorato per questo, io sono assessore dell'economia e ha proprio seguito direttamente il settore, è la terza regione italiana per investimenti, la quarta, il primo semestre del 2012, per errore avevi detto il 2012. No, scusate, il 2012 c'è la crisi, il 2012 c'è la crisi finanziaria, nel 2022 nel primo semestre la Sicilia è la terza regione italiana per investimenti e la quarta regione per incremento del prodotto interno all'ordine. Poi è arrivata questa mazzata della crisi energetica insieme agli effetti determinati della guerra russo-ucraina che sta veramente deprimendo nuovamente il prodotto interno all'ordine. Siamo costretti all'emergenza, purtroppo questo è un dato oggettivo, la politica deve guardare ai grandi piani e ai grandi programmi quando ha tempo, ma quando c'è un'esigenza, diciamo i latini, prima un vivere e poi filosofare. Quindi è chiaro che si può guardare ai grandi progetti, alle strategie quando sono superate le emergenze. Oggi dobbiamo impegnarci direttamente, noi come Terzo Polo lo abbiamo posto come priorità assoluta. Fermo, restando che nel nostro programma si occupa anche di transizione ecologica, transizione digitale, dei grossi problemi della Sicilia, il voto segreto all'Assemblea, il tema della concentrazione CRIAS, IRCAC e IRFIS, la privatizzazione dell'AST, una sola società aeroportuale, lo sviluppo dei piccoli aeroporti, tutta una serie di questioni che sono cruciali, l'estensione dell'EZES anche al turismo. Ecco, ci sono scelte programmatiche importanti, però prioritariamente occorre dare risposta alle migliaia di famiglie siciliane che stanno soffrendo per la crisi energetica. Ecco, proprio il tema dell'EZES, le zone economiche speciali che sono un'opportunità, è uno degli ultimi temi affrontati in questa campagna elettorale da Catano Armao, ora si è ne è parlato tanto, finalmente si sono perimetrate, sono partite però ancora non si vede un effetto. È partita la prima autorizzazione qualche settimana fa, le potenzialità sono straordinarie perché c'è un abbattimento fiscale e quindi l'obiettivo è quello di attrarre investimenti in Sicilia e far sviluppare quelli che partono in questo momento. Io ho girato le zone industriali, sia quella di Termini Marese, quella di Catania, quella di Palermo, quella di Siracusa, ho incontrato tanti e tanti imprenditori in questa campagna elettorale regionale, tanti ne avevo incontrati prima, quindi la percezione c'è delle tematiche, delle questioni. Oggi il tema della competitività della Sicilia è cruciale. Noi siamo frontiera d'Europa, dobbiamo essere cerniera d'Europa, abbiamo un mercato straordinario davanti che è l'Africa, il continente del futuro, il continente del millennio, che dà prospettive importanti se riusciamo a rafforzarci in termini di innovazione, di qualità, di digitale, di società, della competenza e riusciamo a non essere schiacciati in questa tendenza ormai ineludibile allo spostamento di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di uomini e donne dall'Africa verso le zone ricche dell'Europa che nel frattempo si desertificano, invecchiano, quindi dobbiamo in qualche modo cambiare passo per non essere schiacciati, per non diventare una piattaforma di attraversamento di una vicenda, di una dimensione biblica che certamente non si ferma con le barriere fatte dalle navi o inibendo l'attracco dalle navi. È come curare un male gravissimo con un guento o con una crema. Magari hai l'illusione di stare facendo una cura, noi di Sant'Ono abbiamo bisogno di interventi radicali che proiettino la Sicilia nel futuro, ma la proiettino spingendo in innovazione, in una sanità di qualità, come un po' sta avvenendo con Ismet e Rimed, un po' come avviene con la sanità catanese, anche con Palermo con alcuni investimenti significativi, ma ecco, dobbiamo diventare il riferimento verso un continente africano che vuole crescere, non certamente pensare di fermare con un dito una tendenza che assume proporzioni davvero incredibili. E allora partiamo proprio da qui, i conti della regione sono stati una palla al piede in molte occasioni, questo è inutile nasconderlo, è così, perché hanno impedito di fare tante cose, hanno impedito di andare su investimenti e così dicendo. Come si risolve? Da assessore all'economia, come si procede avanti? Io ringrazio la domanda perché abbiamo, mi consente di dare alcune informazioni importanti, noi abbiamo chiuso 5 bilanci che sembravano impossibili da chiudere, abbiamo ridotto l'indebitamento da 8 miliardi a 6 miliardi e 6, abbiamo abbassato le addizionali IRPEF e IRAP che erano ai massimi, quindi mettevano le tasche nelle mani dei nostri contribuenti, nelle tasche dei nostri contribuenti, le abbiamo abbassate a livello medio nazionale, abbiamo ridotto di 640 milioni gli interessi da pagare per il debito residuo, è molto importante quello che è accaduto anche nel settore del digitale dove è dell'informazione digitalizzata della pubblica amministrazione, noi dall'1 gennaio partiamo con un sistema score dove è tutto digitalizzato e quindi sarà molto più veloce, abbiamo avuto il tema del riaccertamento, alcuni dipartimenti hanno ritardato il riaccertamento di tutta la regione, lo posso dire da voi oggi, il riaccertamento è stato finalmente terminato perché anche i dipartimenti inadempienti hanno svolto il loro lavoro, abbiamo fatto gli accantonamenti ma siamo andati avanti, queste sono tutte dimensioni del risanamento economico che è stato fatto ma che potrà avere compimento solo quando si chiuderanno gli accordi finanziari con lo Stato, noi abbiamo nel 2018 presentato una nuova piattaforma, essendo una regione autonoma abbiamo degli accordi finanziari che debbono in qualche modo riequilibrare il rapporto tra prestazioni, funzioni che la regione svolge ed entrate che la regione può acquisire in compartecipazione con lo Stato dal gettito fiscale che i siciliani producono e questo equilibrio che la Corte dei Conti ha detto non sussiste perché incassiamo meno dallo Stato, quindi lo Stato ci dà meno compartecipazione di quella che sarebbe necessaria ad alimentare le funzioni che dobbiamo rendere ai cittadini, soprintendenze, motorizzazione, beni culturali, settore del lavoro, genio civile, tutto quello che è tutto in capo alla regione e a carico della regione. Questo lo sottolineo pure, per un attimo mi permetto di interrompere perché abbiamo anche tante volte parlato del fatto che la regione avesse personale in quantità, non è così perché fondamentalmente ci sono una serie di funzioni che nelle altre regioni appartengono allo Stato che invece la regione svolge con proprio personale ad oggi quindi avendo anche diminuito il personale il tema è assolutamente diverso. E la Corte lì lo dice, lo sosteniamo politicamente da anni, una regione può svolgere le funzioni se ha le entrate per pagare quelle funzioni, se no va in disequilibrio. Oggi la regione, non la nostra, qualsiasi gestione ci sia è in disequilibrio nel senso che la compartecipazione, il trasferimento sul getto fiscale che dà lo Stato non è sufficiente ad alimentare il costo delle funzioni e quindi è come un'azienda che incassa meno di quello che spende, è evidente che poi riesce grazie ad accordi di volta in volta a leggi di stabilità a riequilibrare, per 5 anni ci siamo riusciti, l'ultima variazione di bilancio hanno portato un miliardo di Euro che ha consentito di coprire integralmente il 2022, ma l'unica soluzione per approvare il bilancio nel 31 dicembre come è giusto che sia e per svolgere integralmente le funzioni serenamente è quella di chiudere un nuovo accordo finanziario con lo Stato per il quale ci sono già i documenti a Roma da 3 anni, abbiamo avviato dei tavoli, poi purtroppo la pandemia ha rallentato enormemente questo lavoro, ma ci sono i riferimenti, primo tra tutti l'accordo sulle accise che consente che è già stato definito sul piano tecnico, occorre solo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione, spero che il prossimo governo possa farlo, su 600 milioni di retrocessione di accise, ora spiegherò perché retrocessione, non perché si va a marci indietro, ma ora vi spiego tecnicamente che cosa vuol dire, di retrocessione di accise, cosa succede? Nello Statuto Siciliano al tempo non c'era l'idea che in Sicilia si potesse estrarre petrolio o si potesse raffinare petrolio, il tempo dopo la seconda guerra mondiale quando fu scritto lo Statuto erano altri i temi, erano altre le questioni, non si immaginava minimamente che in Sicilia si potesse arrivare alla produzione petrolifera e alla raffinazione, noi raffiniamo quasi il 50% del prodotto petrolifero che consuma il Paese, quindi abbiamo un carico ambientale ma anche un carico produttivo che dà la stura alle aree industriali importanti, pensate che la provincia di Siracusa ha un PIL assai significativo, decide sul PIL in modo assai significativo per il nostro PIL regionale, pensate che le esportazioni di Siracusa equivalgono a 2 miliardi di Euro, annui la provincia di Palermo arriva a circa 100 milioni, quindi immaginate quant'è il rapporto di… 1 a 20, quindi perché? Perché c'è la raffinazione che è il grosso dell'esportazione, bene noi da quella raffinazione prendiamo pochissimo perché prendiamo un po' di royalties dall'estrazione ma non rimane molto tranne quel po' che producono le società che hanno sede in Sicilia, perché questo? Perché il nostro Statuto non ha riconosciuto che le accise fossero di pertinenza regionale, se avessimo le accise avremmo circa 10 miliardi di Euro di entrata, perché? Perché le accise è uno strumento di matrice europea che prevede che il tributo matura quando tu immetti il carburante nella tannica di una macchina, per cui se lo raffiniamo a Siracusa e noi mettiamo la benzina nella tannica a Bolzano, le accise accise matura a Bolzano, non matura dove si è raffinato e questo è un problema, ecco perché la retrocessione, perché lo Stato che è in cassa delle accise quando il carburante è raffinato a Siracusa viene messo nella tannica a Bolzano, ci deve retrocedere le risorse, abbiamo ottenuto questo e quindi ci possono retrocedere 600 milioni di Euro, che è una norma del 2005 che non aveva avuto attuazione e che grazie all'impegno di questi negoziati in questi anni potrà avere attuazione. Il governo prossimo si troverà a 600 milioni di Euro di entrata che oggi non ha. Una norma che ricordiamo quando fu varata nel 2005 era una norma che serviva a compensare anche l'aumento della compartecipazione al sistema sanitario, in realtà nasce così la norma, ma era rimasta letteralmente. In alto, noi siamo riusciti a… vedete, questo è uno stile anche di rapporti con Roma che ho cercato di tenere e che ha portato risultati, essere duri, essere puntuali, cioè portare numeri e non grida come quello che gira con la lanterna, non so se è già venuto o verrà. È già venuto. È già venuto. Quando ero ragazzo, quando volevi lamentarti e protestare, mettevi la mortadella nella scheda elettorale e si scrivevi, mangiatevi pure questa. Ognuno si sfogava come voleva. Oggi basta scrivere il nome di un candidato, l'ho definito la mortadella del 2022, ognuno protesta come vuole. Non è con le proteste, sbraitando, gridando, dicendo parlaccio, fondamenti giornalisti che porti a casa qualcosa. A Roma porti a casa e lo dimostra facendo l'insularità, con competenza, con serietà che è il nostro obiettivo, come terzo polo, abbiamo definito il nostro slogan Sicilia sul serio, con serietà, competenza, con numeri e dimostri sui tavoli romani che hai ragione e te la danno. Sull'insularità che è una… Era la domanda successiva. Però è correlata questa, ti ringrazio. È assolutamente correlata, ma perché intervengo? Perché sull'insularità si è ottenuto di recente l'inserimento in Costituzione, che è un elemento fondamentale, a prescindere dal fatto che bisognerà aspettare i tempi… 29 ottobre. 29 ottobre. Compleanno di Giuseppe Alessi. Perfetto, vedi che cosa, vedi che cosa. C'è il tema degli strumenti attuativi. No, allora intanto 100 milioni ce l'hanno già dati e c'è i danni al regime, quindi 100 milioni l'anno la Sicilia li prende come copertura del costo dell'insularità, che è pochissimo rispetto all'importo dei 6 miliardi che abbiamo calcolato, però è già l'apertura del muro, vuol dire che il muro ha una fattura e quel muro che prima diceva perché la Sicilia che è un'isola, era un'isola solo per noi che dobbiamo prendere l'aereo, andare a trovare i nostri figli, i nostri cari o andare a farci visitare, o per gli albergatori che devono fare venire qui le famiglie in vacanza. Ecco, perché facevo riferimento alla serietà e alla correttezza e all'attenzione e ai numeri? Perché sull'insularità non è un caso, l'abbiamo ottenuta con votazione quasi unanime di Camera e Senato per ben due volte, quindi due volte la Camera e due volte la Senata. Ma come mai i trentini, i valdostani, i leghisti più sfegatati, più antitetici al Sud hanno votato a favore di queste cose che vieneva dato atto e di questo dobbiamo complimentarci? Perché siamo andati a Roma a chiedere il riconoscimento della condizione di insularità, con uno studio sui costi dell'insularità che non aveva fatto nessuna regione europea e quindi di fronte alla dimostrazione che la Sicilia ha un tributo occulto di 6 miliardi di Euro e che quindi va recuperato questo divario, questo pregiudizio attraverso o trasferimenti in denaro o fiscalità di sviluppo, quindi possibilità di abbattere l'imposizione fiscale o attraverso investimenti straordinari, ecco perché la perequazione infrastrutturale, cioè investimenti nelle infrastrutture che ci consentono una mobilità più agevole, a partire al ponte, ma penso anche alla viabilità delle strade ordinarie, agli aeroporti, ai porti, alle autostrade del mare, al mare bonus, cioè quell'investimento che abbiamo fatto di 15 milioni di Euro per agevolare il trasporto via mare delle nostre merce e non quello via camion perché ha costi molto più elevati e inquina molto di più. Allora la dimostrazione è che quando la Sicilia si presenta, senza gridare, non stracciona, non col torpiloquio e l'offesa, le lingue di fuori e le grida, ma si presenta con serietà, con competenza, con numeri alla mano e dimostra che ci sono dei divari da recuperare, si ottiene e si porta a casa il risultato per la Sicilia. Questo è il nostro obiettivo, il modo di fare, il modo di fare politica, il modo di credere che la politica sia una cosa seria e non sia un luogo per fare spettacoli o lanciare strali nei confronti di chi che sia. Bene, dicevo c'è il tema degli strumenti di attuazione oppure no? No, no, il 29 di ottobre il precetto diventa costituzionale a tutti gli effetti e costituzione vigente, da quel momento ogni legge, decreto, programma, piano, linea di investimento, piano delle carceri, piano degli ospedali, piano degli asili, piano delle scuole, piano dei trasporti, qualsiasi cosa dovrà tenere conto della condizione di insularità, dell'obbligo che ha la Repubblica di riequilibrare il pregiudizio che subiscono le isole per una situazione che è una situazione geografica. I spagnoli parlano di fattore insulare, il fattore insulare è un fatto oggettivo che va recuperato. Diceva Don Milani, con un'espressione che io ripeto forse ossessivamente, ma la trovo molto calzante per la nostra situazione. Diceva Don Milani, non c'è niente di più ingiusto che fare parti uguali tra i diseguali. È un'affermazione che sembra ovvia, ma è una linea di principio molto importante, perché parte dall'assunto che bisogna riconoscere l'effettiva realtà e quindi gli italiani non sono uguali. Gli italiani insulari, che sono 6 milioni e mezzo, vivono una condizione di pregiudizio, vivono una condizione di difficoltà. Qualsiasi cosa facciano, possono fare i professionisti, gli imprenditori, i lavoratori, padri, madri, malati, giovani che vogliono andare a studiare, qualsiasi cosa da un'isola ha dei costi che non ha dal continente. Sport, pensate che cosa soffrono le nostre squadre sportive che sono impegnate in un campionato, non dico nazionale, che diventa proibitivo in alcuni casi, ma anche intranazionale, cioè regionale. Pensate alle squadre che devono andare in Abruzzo o nelle Marche, devono partire un giorno prima e tornare un giorno dopo. La squadra pugliese, Calabra o Veneta si mette sul pullman, si fa una notte di viaggio e arriva. E' evidente che questo non è solo tempo, ma anche costi, ma siccome il tempo è denaro, è tempo e costi che aggravano le posizioni. Qualsiasi cosa da un'isola è più complicata, anche sul piano della competitività delle nostre aziende che va quindi compensata attraverso interventi finanziari. 100 milioni li abbiamo già avuti, dovremo avere molti di più, è una battaglia che oggi ha una novità, nulla sarà come prima, è in Costituzione e quindi diventa parametro per valutare ogni cosa, ogni atto dello Stato, delle Regioni, dell'Unione Europea che non a caso parimenti adottate una risoluzione che riconosce la condizione dell'insularità, sulla quale abbiamo lavorato insieme a Omer Gironi, che è un mio amico Presidente della Commissione Regi del Parlamento Europeo, proprio Barger è stato il relatore della risoluzione sulla insularità, che lui viene da Reunion in un'isola europea e oggi la Sicilia è protagonista di questo cambiamento importante, significativo, ma questo dimostra che quando si hanno idee chiare, che quando si vuole difendere la Sicilia con argomenti puntuali e il terzo polo ne ha fatto una scelta definendo la Sicilia sul serio, si può conseguire il risultato. Il tempo è finito, è volato via parlando di questi argomenti, 30 secondi però dobbiamo fare un'ultima cosa, quello che faccio fare sempre a tutti, un appello al voto, perché votare nel terzo polo, perché votare in realtà non armava, rivolgiamoci agli elettori. Per quanto riguarda la mia persona, io ho lavorato 5 anni a servizio dei siciliani e voglio continuare a farlo nella logica di una Sicilia che recupera la sua credibilità, che punta al suo riscatto non gridando, non sbraitando, non mettendo i piedi sul tavolo, ma spiegando, illustrando, pretendendo, battendo in alcuni casi pugni sul tavolo, ma sempre con una compostezza è una serietà di argomentazioni che parte dalla competenza sui temi. Per quanto riguarda il terzo polo, il terzo polo è la vera novità di questa campagna elettorale, guidato da Carlo Calenda, con azione Italia Viva, che punta ad una aggregazione nuova delle forze riformiste cattoliche e liberali. Sono quelle forze che hanno fatto la Costituzione, sono quelle forze che hanno fatto dell'Italia alla quinta potenza economica del mondo, sono quelle forze che hanno portato l'Italia in Europa. Ecco, queste forze oggi possono trovare all'interno della nostra lista una nuova ricomposizione e lanciare un'idea centrista per un paese che non vuole vivere di estremismi, non è pensabile immaginare il capo di una nazione straniera marginale, quale è l'Ungheria, come riferimento politico d'Italia, né tantomeno oscillare come fa il PD tra 5 Stelle, Fratoianni e quant'altro. L'idea centrista che guarda l'Europa, che guarda l'esperienza del governo Draghi, che guarda un futuro diverso, che punti a far restare i nostri ragazzi in Sicilia, farli magari partire per studiare, ma poi tornare qui a costruirsi un futuro e fare una famiglia e lavorare in Sicilia. Bene, grazie a Gaetano Armao per questi suoi 24 minuti in nostra compagnia, grazie sempre e soprattutto a voi che ci avete seguito, sperando di avervi aiutato a farvi una opinione utile nella cabina elettorale. Grazie ancora e al prossimo appuntamento contro il Sicile. Arrivederci. Arrivederci.